E questa mattina è stato presentato anche energicamente il progetto di Estra insieme alla scuola Sarrocchi di Siena. Vediamo le interviste. Parliamo di una grande azienda del territorio, ormai assurta a livelli nazionali, che esposa i buoni progetti, le buone pratiche anche nel settore dell'alternanza scuola-lavoro con l'eccellenza del mondo scolastico. Per noi il Sarrocchi e il suo preside Pascini è un punto di riferimento. A Siena siamo una delle più importanti aziende e quindi siamo felici di poter contribuire con i nostri uffici, con la nostra controllata estraclima a questo allargamento del nostro progetto di Energicamente, che non più e non soltanto si rivolge ai più piccoli sui temi dell'educazione ambientale, ma facciamo crescere questo progetto coinvolgendo le scuole superiori e condividendo con i vari profili scolastici di questo importante istituto senese e appunto l'aspetto divulgativo e progettuale sul tema dell'efficienza energetica, con la nostra azienda che fa un po' da tutor a questi ragazzi che si dimostrano sempre di più capaci di affermarsi dopo la fase scolastica. Estra è di proprietà delle amministrazioni pubbliche e svolge appieno un ruolo di responsabilità sociale, a volte svolge un ruolo di supplenza, di supporto agli enti locali, all'amministrazione, tutto ciò che si occupa di pubblico e questa responsabilità sociale ci impone anche di contribuire a migliorare le performance dei futuri lavoratori e garantirgli maggiormente occupazione.